E' possibile allenarsi al corpo libero il giorno d'oggi? Io direi di sì. Tramite il metodo VTA è possibile comprendere meglio qual è l'allenamento corpo libero sia in carico e sia in scarico tramite il Primitive Functional Movement primo livello. Di cosa parla? Il medesimo sistema allenante è basato sul movimento a 360 gradi. Questo perché la funzione specifica è far sì che si crei la giusta sinergia di movimento tra tutte le catene muscolari, ma soprattutto far collaborare gli assi fondamentali dell'apparato muscolo-scheletrico, cioè l'asse del cingolo scapolo-merale, l'asse del cingolo pelvico, collegati tra di loro tramite la colonna vertebrale e di conseguenza dando vita a tutto ciò grazie all'attivazione del core, che è il fulcro comunque del nostro movimento sia in statica e sia in dinamica. Utilizzando che cosa? I tre piani di movimento specifici che sono il piano frontale, il piano sagittale e il piano trasversale, in modalità tale che l'allenamento diventi globale e quindi funzionale alle richieste del soggetto stesso. In tal modo l'allenamento è incentrato sulla persona perché si avranno sia fasi di mobilità articolare attiva sia fasi di carico muscolare per scopi di forza, resistenza e velocità. Quindi come ci muoviamo nella quotidianità senza l'ausilio di attrezzi o macchinari? Perché non possiamo immaginare e pensare di allenarci anche nella stessa modalità quando pratichiamo uno sport? È possibile grazie al metodo VTA. Per conoscere questo tipo di allenamento puoi avere l'opportunità di iscriverti al corso di formazione che si terrà sabato 16 e domenica 17 novembre a Fossano in provincia di Cuneo presso palestra UFC dove andremo a conoscere tutto quello che concerne la parte pratica oltre il centinaio di esercizi circa del primitive functional movement a primo livello e di conseguenza anche tutto ciò che rende fondamentale il lavoro di un personal trainer o di un istruttore cioè la giusta sinergia che c'è tra la teoria e la pratica messa insieme per riuscire ad andare a studiare un percorso ad hoc grazie ai test conoscitivi e valutativi che effettueremo e di conseguenza avremo il piano di lavoro per il nostro soggetto quindi se ti può interessare questo genere di allenamento non ti rimane altro che scrivermi in privato e chiedere le giuste informazioni grazie a tutti e buon allenamento ciao